...e questo progetto che poi è una creatività. 37 studenti nel ruolo di tutor e 4 circoli ricreativi coinvolti con l'obiettivo di rendere le tecnologie inclusive e permettere agli anziani di usufruire al meglio dei servizi offerti da cellulari e computer. È stata illustrata nell'aula magna del liceo scientifico Torelli di Fanno l'iniziativa denominata Alfabetizzazione Digitale. Un progetto pilota che coinvolge gli alunni delle classi terze e dell'indirizzo ordinario di scienze applicate e i circoli di Sassonia, Bellocchi, Baia Metauro e quello delle Fontanelle. Dopo la fase organizzativa e di formazione, dal prossimo mese i ragazzi in orario extrascolastico incontreranno gli over 60 in un rapporto 1-2 al massimo mettendo in pratica la loro conoscenza teorica. A sottolineare l'educazione civica e l'aspetto umano dell'iniziativa, la docente Silvia Guida. È iniziata la formazione pomeridiana in presenza e online. I ragazzi faranno un patto formativo con l'anziano e laddove l'anziano ha delle carenze il ragazzo, l'adulto, sedicenne, è chiamato a colmare queste carenze. E nel dettaglio che cose insegneranno i giovani? Nel dettaglio i ragazzi potranno mostrare agli anziani la parte relativa allo smartphone, quindi se lo perdono eccetera, e anche la parte del PC, da Stop, il classico PC con gli strumenti Windows, da Word, Excel, PowerPoint. Loro spesso si trovano a fare dei fogli di calcolo, il presidente del circolo, chi lo aiuta nei conti, nel conteggio dell'amministrazione del circolo stesso. Un progetto che rientra in Old But Gold, Assessore. Sì, questo è un progetto come Old But Gold di promozione della longevità attiva e nel promuovere appunto la longevità attiva, quindi la socializzazione, l'aggregazione della cosiddetta terza età, è bello ed è virtuoso, diciamo. Questa sinergia, questa collaborazione che si è creata anche con le nuove generazioni, quindi con la scuola, in particolare con l'Iceo Torelli, perché credo che sempre di più oggi ci sia bisogno di, quando si parla di inclusione sociale, anche abbattere qualche barriera. E una di quelle barriere è appunto favorire, quindi promuovere anche l'utilizzo dei dispositivi, quindi favorire l'inclusione diciamo digitale, anche di coloro che hanno meno dimestichezza. Siccome sono appunto presidi i circoli ricreativi, che per noi sono un patrimonio in questa comunità, sono dei presidi di socialità, sempre di più questi presidi vanno non solo animati da coloro che li frequentano e che li custodiscono, ma anche aperti sempre di più alle nuove generazioni. Questa iniziativa, aggiunto Tinti, cercheremo di promuoverla sia come comune che come ambito anche negli altri territori. Un progetto che grazie anche alla Proloco è riuscito ad andare avanti, chiaramente con la collaborazione del comune, ma soprattutto con la collaborazione di due persone che si stanno occupando appunto del progetto Anziani, che sono Giorgio e Sauro. Cosa posso dire? Sicuramente è un'esperienza che i ragazzi vivranno al meglio, sicuramente si divertiranno e la cosa bella è che molto probabilmente si troveranno dalla parte opposta di dove si trovano adesso. Adesso loro chiaramente si trovano dalla parte come studenti, invece adesso gli studenti saranno appunto gli anziani ai quali dovranno insegnare l'utilizzo della tecnologia, che è cosa molto importante e che sicuramente sarà un bagaglio che si porteranno dietro perché sarà sicuramente per loro una bella esperienza, sia per i ragazzi ma soprattutto per gli anziani o come abbiamo detto prima, gli adulti longevi, che forse è la terminologia più corretta. Quindi io mi auguro che insomma vada bene, come sono convinto che andrà bene, ci sarà molta partecipazione e faccio l'imbocca lupo a tutti quanti.